Salve popolo di internet, il mio nome è Cosmocomic, due K iniziali e una C finale. Siamo in compagnia di Spyro e Sparks e faremo un resoconto delle nostre avventure nella foresta d'estate, mentre farò le missioni secondarie in Hulikos, Spiagge del Sole e Tori Aquaria. Dopo aver fatto Ballume, Sorgenti Idrili e Colossus, penso che... Perché al 66% ci sono delle spere? Vabbè, niente. Allora, sì, quindi, dopo aver tentato di completare al 100% Ballume e aver completato al 100% Sorgenti Idrili e Colossus, faremo Hulikos, Spiagge del Sole e Tori Aquaria. E proverò anche a vedere se c'è anche qualcosa in circuito oceanico, perché mi sembra strano. Quindi, allora... Quindi, allora... Vediamo un po'. Che cosa c'è? Nella foresta d'estate abbiamo sfidato Hunter. Abbiamo sfidato Hunter e trovato due sfere. Ci manca una terza spela che, molto probabilmente, si trova sopra l'albero della sala dove vi sono i portali di Hulikos e Spiagge del Sole. Ok, ragazzi, andiamo a Hulikos. Quindi, non mi fate più paura ormai, so come sconfiggervi. Grandissime persone oneste. Ah, adesso non mi... Però mi... Ecco, l'angolo delle torture. Penso che qualcosa... Penso che ci sia qualcosa che ha a che fare con i mulini. Sì. Forza, prendiamo i diodi. Oh, distruggiamo tutti. Tutto e tutti. Oh, è qui? Non è andato qui sopra. Che strano. Oh, è qua? Qua? Qua c'è? Oh, che cos'è questo luogo? Non mi sembrava ci fosse all'inizio. Oh, questi ladri macinatori continuano a rubare le nostre pietre luminose. Se le recuperi tutte e attivi il nostro generatore, te ne sarò molto riconoscente. Va bene. Ma forse si devono mettere qua queste spere. Oh, di bene in meglio. Continuiamo ad andare avanti e riempiamo questi generatori con le sfere. Che ci vuole? È una cosa fa... Dicevo. È una cosa facile. Ma quanto sei... Babbo... Andiamo, puoi fare di meglio. Allora, proprio, non ce ne... Fai come vuoi. Allora, prendiamo questi... Allora, perché non va... Allora... Si è dannato quel giorno in cui la levetta... Oh... Stanno che ancora non si è fatto vedere nessun lato. Forse hanno... Hanno paura di uno come me. Una draga. Non vi pare? Che co... Che succede? Ah, no, 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 no. Ora ho capito. Vi fate vedere proprio quando... Inizia... Tentiamo di rimettere tutto a posto. Che basta... Basta... Ok... Vogliete il gioco duro? I due iniziano a giocare. Allora... Questa... Questo non è un cazzeggio time. È una cosa seria questa. Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Oh, oh, ancora Dove sono, dove sono, vi prendo, vi prendo Oh Mamma mia, che Che fa, che, che facce tosse Vieni qui, vieni qui, maledetto Vieni qui, basta Ma, cosa Ma non ha senso Oh Erano qui, erano esattamente qui Chi è stato Allora Benissimo Ora io mi allontano 5 secondi Voi non azzardatevi ad allontanarvi Sto tornando Potrebbero riapparire da un momento all'altro Oh, ma Vi, 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 vi sento Lo so No, 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 no Non scappare Oh, c'è Stanno rubando Anche se sono grossi Escono Comunque ad essere incornati facilmente Cioè non mi posso lontanare nemmeno 5 secondi Almeno ne ho battuti La metà Ora il resto Devo riuscire A beccare l'altra metà Di questi Maledetti Sono solo raduncoli da 4 soldi Non sono questi professionisti Di cui Ballano tanto Vieni qui Avanti Che ci sto riuscendo Sto riuscendo a A rimettere in sesto tutto Avanti Avanti che sono in gamba Siamo, siamo, siamo in gamba Oh, vieni qui tu Rimane qui la sfe... ho detto Rimane qui il globo Rimane qui la palla Rimane qui il coso rotondo Che palla Rimane qui il sto... rimane qui sto Coso Tiè Li ho sterminati Adesso posso Rimettere a posto I I generatori senza Che vengano rubati Ancora È stato aldo Ma alla fine Il compenso Penso che sarà buono È stato piuttosto impegnativo È stato piuttosto impegnativo È qui Ecco lo sapevo Vabbè Allora No Ma che co... Oh finalmente Grazie Spiro Ho trovato questo oggetto splendente Tra le nostre pietre luminose Ti prego di prenderlo in segno di gratitudine Si chiama Sfera E mi servirà Per combattere O solo... Oppure sarà solamente per collezione Chi lo sa Va bene Torniamo indietro Però È stato esaltante Non è vero? Si Non mi fregate più adesso Dedicherò un angolo delle tratture solamente per voi S Cleo Solo Adore E Ah Ok 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 Vediamo se attivo qua E' attivo Una supercarica? Che serve la supercarica? Pensavo ci fosse Che so qualcosa di più Solo questo? Nemmeno una superfiamma Va bene Allora Vediamo e Non ho idea di cosa ho appena fatto Però comunque penso che sarà Qualcosa di buono Penso Non lo so Fermo Allora Doi Oh certo Zzzzzzzzzzz Eeeh Ecco non ho idea di cosa ho appena fatto Anche qui Devo rallentarti parecchio Allora Mi dite come caspita faccio Se Ok Abbiamo Cioè Abbiamo una vaga impressione Però C'è qualcosa Lassopra Però io non so Davvero che cosa Grazie Spiro Sì Non è questo Sei sempre il C'è un enigma Più grande di me Devo scoprire Quale è l'enigma Indizi Cerco indizi Che sono indizi Peccato Oh Ok Posso parlare con questo tizio qua sopra Spiro Spiro Vedi quel grande edificio laggiù I macinatori lo stanno usando per rubare la nostra electricità No Per favore aiutaci a spegnere il congegno che si trova all'interno Sei un mio lontano parente Sei un mio lontanissimo parente Ti stimo Cosmo Ora se Ora se trovo qualcuno con il nome comic Cioè Gli faccio Gli faccio un monumento Vabbè Non sono esagerato Sì Ok E adesso Andiamo ancora avanti Do cacchio sta Devo raggiungerlo Ma come Tutto per Cosmo L'Elec Com'è che ti chiami l'Electrol L'Electrol Per raggiungere quelli difficili laggiù Salt L'Electrol Certo Tutto per l'Electrol Perfetto Riproviamo Hopp Pop 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 No Devo riprovare È assolutamente indispensabile Che io riprovi No Lo so, scusa C'è qualcosa di più avanti Ehi, amico Electrol Che si dice? Piro, ti sei comportato bene fino ad ora Puoi avere questo piccolo ciondolo come portafortuna Ciondolo Se vuoi sapere come chiudere la fabbrica Basta che meno chiedi Ciondolo Oh, ma è una stela Allora Il prossimo salto è difficile Dovrai effettuare un volo librato per riuscire Premi il tasto triangolo durante il volo Per librarti e guadagnare quota In questo momento Spyro ha la mia stessa espressione Ricorda di premere il triangolo quando sei molto vi... Sì, sì, sì Grazie But Però è veramente difficile in effetti, eh Però No, no Ah, meno male Perfetto Ma che cosa Allora, sono proprio pappo io Mi dispiace Spyro se ti sto facendo facere tutti questi giri Nooo Ci devo riprovare Perché io sono il drago Se Tomate Una fafala Oh Oh Electrol Ok Spiro, aiuto L'interruttore che serve è chiudere la fabbrica dei macinatori È in quella stanza Ma C'è un forte rumore lì C'è un forte rumore lì C'è un forte rumore Ehm Grazie per aver chiuso la fabbrica Ecco Ho trovato questa tra gli attrezzi Puoi averla se vuoi Però Non so cosa mi aspettavo Davvero, cioè Dopo che mi dici C'è un forte rumore lì Ma chi è? Oh boh Vabbè Ho chiuso la fabbrica Ho Sistemato tutto Sono effettivamente Riuscito a completare Il livello di Urrigos Quindi possiamo Anche andare Bellume è stato il primo luogo Dove abbiamo trovato il nostro primo talismano Abbiamo acceso la lampada all'esterno Per prendere una sfera E abbiamo dato la caccia Alle lucertole Ci manca una missione in particolare Ma non è un problema Quando acquisiremo l'abilità di alambicarci Potremo Potremo aggiungerci ad acquisire L'ultima sfera di quel regno Ben fatto, Spiro Ok, Spiro Salta Non ancora, dolcezza Non ancora Ho un'altra cosa da fare ancora Spiaggia del sole Avanti, Spiro Facciamo queste Missioni secondarie Nella Spiaggia del sole Che c***o Certo Dopo Questo Ho visto di tutto Dopo Dopo questo Posso affermare di aver visto di tutto Mi rivesto Non potremmo completarlo tutto al 100% Certo Non potremmo